Perpetua. Oggi l'Europa torna ad essere un'Europa dei nazionalismi, questo la preoccupa? Beh, devo dire la verità che avendo vissuto una lunga vita e avendo anche studiato parecchio la storia d'Europa, posso dire che ho sempre creduto poco all'Unione Europea, perché questi paesi riuniti insieme per la buona volontà di tanti personaggi del passato che ci hanno provato a fare l'Europa Unita, in realtà avevano poco da spartire uno con l'altro. E questo si è visto ultimamente proprio in modo plateale col fatto che molto presto, davanti al problema dell'esodo dell'immigrazione, molti di questi stati hanno chiuso i confini subito, hanno messo le guardie armate, hanno messo fili spinati, hanno messo fili spinati mentali, soprattutto nelle persone. Quindi, avendo, visto che lei chiede il mio parere, io non mi sono mai occupata di politica, sono entrata da vecchissima in Senato, posso dire quello che ho sempre pensato, cioè che ho sempre poco creduto all'Europa Unita e che adesso c'è la prova. Che Salvini poi giustamente cavalchi questa sensazione, lui è un uomo di parte e fa il suo lavoro politico. Ma l'Europa ci ha lasciato soli nella gestione di quel fenomeno così complicato da gestire come quello dell'immigrazione, dei flussi migratori? Sì, l'Europa ci ha lasciato soli per troppo tempo e ha permesso, infatti, le paure, ha permesso che l'Italia, come primo porto, come geograficamente più vicina all'Africa, diventasse una metambita per questi disperati che fuggono. E quindi è logico che Salvini, che è un uomo politico non indifferente, faccia il suo lavoro e approfitti del fatto che l'Europa ci ha lasciato soli. Senatrice, la devo...